Ciao a tutti! Questi sono il mio nuovo rossetto e il mio nuovo lucidalabbra, facilissimi da fare perché li ho realizzati con dei prodotti di Aromazon già finiti, diciamo. Il Mettenpour per il rossetto e il Mirror de Sucre invece per il lucidalabbra, a cui ho aggiunto alcuni ingredienti per renderli maggiormente professionali. Qui sto realizzando il mio rossetto, lo sto realizzando con il pigmento magico di Gaia. Ho aggiunto il Mettenpour e qualche grammo di cera d'api e adesso lo sto andando a versare nella mia siringa, perché il contenitore che ho comprato è un po' piccolino. Difatti adesso vedrete che quando andrò ad inserire il rossetto ci sarà un po' di eccesso che esce, ma spingendo alla fine sono riuscita ad inserirlo dentro il rossetto. E adesso appunto vi faccio vedere il risultato. Qui invece sto realizzando il lucidalabbra, prendo il Mirror de Sucre, questa ricetta è a cucchiai perché non ho preso dosi, circa appunto un cucchiaino e mezzo e vado ad aggiungere due piccole gocce di cera d'api, scusate per le mani tutte colorate ma quel pigmento è assurdo, con una siringa lo verso poi dentro il contenitore finale che ho comprato da Aliexpress. E questi appunto sono i miei due prodotti già realizzati, adesso però vi voglio fare vedere la resa che hanno sul viso. Inizialmente vedrete che questo pigmento, essendo appunto pigmento magico, non scrive, però se mettete appunto una lacca o un altro pigmento noterete che scrivono immediatamente. Questo invece ha bisogno un attimino di calibrare, diciamo, il pH delle labbra per poter diventare più chiaro o più scuro. Adesso vi faccio vedere che in qualche secondo è già diventato più scuro. Tolgo un po' di eccesso perché voglio mettere su questo il lucidalabbra e vi faccio vedere che leccando leggermente le labbra diventa anche più scuro perché il pH appunto comincia a diventare più acido. È davvero un bellissimo colore, nell'info box vi metterò poi il video di Kaia sul suo rossetto magico e sul pigmento e tutte le varie informazioni, ma potrete utilizzare qualunque genere di pigmento. Questo è lucidalabbra, lo vado a mettere di sopra, come vedete, è leggermente bianco ma sulle labbra poi è totalmente trasparente. Adesso vi faccio vedere anche la resa di questo. Quest'anno le labbra lucide sono il must per l'inverno e per la prossima primavera estate. E questo è il risultato finale. Ciao a tutti ragazzi, a presto!